L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico, attualità, e dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, Carmen Zammataro, con noi in collegamento Skype Audio Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno a voi. Come sappiamo, le persone in tutto il mondo stanno oggi affrontando un'emergenza sanitaria senza precedenti a causa della diffusione della pandemia da Covid-19. La tecnologia può e dovrebbe svolgere un ruolo importante durante questo sforzo per salvare vite umane, anche diffondendo messaggi di sanità pubblica e aumentando l'accesso all'assistenza sanitaria. Tuttavia, proprio nel nome della lotta contro la pandemia, alcuni governi si stanno affrettando ad espandere il loro uso delle tecnologie di sorveglianza per tracciare gli spostamenti di individui e persino di intere popolazioni. Riccardo Nuri, quali tipi di dati vengono usati e quali sono i pericoli che possono essere rappresentati dall'utilizzo di tecnologie di sorveglianza da parte dei governi e perché? Per quale motivo? Intanto, come dicevate voi, la tecnologia può essere utilizzata molto bene in questo contesto, tant'è che in luoghi in cui c'è un blackout sulle comunicazioni sono però le informazioni fondamentali sulla prevenzione nei confronti della pandemia che saltano e questo è un grave problema. Però c'è un uso tendenzialmente e potenzialmente preoccupante di questa sorveglianza digitale di massa che è all'orizzonte e che oggi ci pare tollerabile perché siamo di fronte a un'emergenza di sanità pubblica e quindi c'è un interesse collettivo a far sì che i controlli siano efficaci. Però il rischio è che così l'eccezione, l'eccezionalità di oggi diventi la regola domani e che dunque dati personali riguardanti la posizione delle persone, i loro spostamenti vengano utilizzati per finalità esterne al controllo del post-virus, della post-pandemia. Ci sono casi estremi nel mondo, in Cina per esempio ormai è inutile sorvegliare fisicamente le persone perché è tutto digitalizzato sotto controllo. Bisogna stare attenti, tutto qua. Quello che oggi ci sembra accettabile domani potrebbe ritorcersi contro coloro che lo hanno accettato. Luri, in questi giorni si sta sviluppando in Italia un dibattito sul bilanciamento fra emergenza sanitaria, emergenza normativa e libertà individuali. Se a tutto ciò si aggiunge anche la sorveglianza tecnologica, si può toccare l'illegalità? Se dovessero verificarsi abusi rispetto a dei criteri, che sono criteri del diritto internazionale, dunque la necessità, temporaneità, proporzionalità delle misure. Se dovessero esservi misure, generali adottate senza la minima supervisione di organismi indipendenti, ecco noi saremo su una china molto pericolosa. Già ci sono dei primi segnali, ma sono segnali più di opinione pubblica e in parte anche di istituzioni, di dare la caccia, sorvegliare dall'alto con i droni, con gli elicotteri, su delle attività che possono essere difficilmente considerate illecite, come camminare su una spiaggia piuttosto che fare una grigliata su un luogo privato a quale è un terrazzo. Però vediamo che c'è questa voglia di individuare chi trasgredisce e allora se lo fanno i privati cittadini già è qualcosa che non va bene, se poi lo fanno i governi diventa pericoloso. Nuri, sentivamo prima un accenno alle situazioni di sorveglianza della Cina, possiamo considerare in breve qualche altro esempio di quanto sta accadendo o è accaduto in altri paesi del mondo appunto nel campo delle tecnologie di sorveglianza correlate proprio al coronavirus? Sì, ci sono luoghi assai più vicini della Cina e l'Europa ha conosciuto una stagione tragica di terrorismo con paesi particolarmente colpiti, penso alla Francia, al Belgio, alla Germania, ancora prima la Spagna e naturalmente anche l'Italia, però negli ultimi anni soprattutto la Francia ha fatto preoccupare per un sistema proprio di controllo di massa senza particolari di supervisioni, senza che fosse dichiarato un obiettivo specifico, senza che fosse stabilita una durata. Allora, io ricordo sempre Edward Snowden quando parlava dei controlli di massa e intanto lui diceva e dice che più persone controlli e meno risultati ottieni perché se sottoponi a sorveglianza milioni, milioni di persone non raggiungi l'obiettivo, la sorveglianza dovrebbe essere per l'appunto mirata e determinata da un obiettivo specifico e in secondo luogo Snowden dice alla fine quando tu controlli milioni di persone l'obiettivo di controllare è controllare, è sorvegliare, non c'è un obiettivo esterno, misurabile, concreto, raggiungibile e quindi un po' la paura che abbiamo in queste settimane è che si stia disegnando il mondo che verrà nel 21, nel 22 quando dovremo convivere con la pandemia ma forse ci saranno cure efficaci e ecco tutto qua, siamo poco preoccupati forse per l'oggi ma molto per il domani. Ci possono essere allora degli accorgimenti da utilizzare o delle scelte preventive da operare per evitare la restrizione permanente se non l'alienazione nel futuro dei diritti individuali e sociali, Nuri? Noi lo abbiamo detto, noi insieme a tantissime altre organizzazioni abbiamo rivolto un appello una settimana fa ai governi chiedendo garanzie, comprendiamo che sia necessario effettuare un certo controllo però garantendo l'anonimato, spiegando l'anonimizzazione come avviene, informando con trasparenza su dove vengono conservati e archiviati i dati, garantendo che non saranno ceduti a terzi, che siano terzi pubblici o aziende commerciali e altre raccomandazioni ancora. Allora, un sistema di controlli di questo genere potrebbe essere accettabile, se però queste garanzie vengono meno allora diventiamo veramente, cito una frase ormai abusata, però ecco il grande fratello di Orwell potrebbe veramente determinare la nostra esistenza. Certo, abbiamo letto sul sito di Amnesty che alcuni governi si sono serviti o si servono di agenzie esterne per poter eseguire questa sorveglianza di tipo tecnologico, insomma qui eventualmente la situazione può diventare ancora più complessa perché non si sa se ci può essere la certezza della conservazione, della protezione dei dati in un certo modo piuttosto che in un altro, Nuri. In teoria chiunque sia il fornitore del sistema, del software, della tecnologia, poi il governo che è l'acquirente deve fornire delle garanzie, però ci sono delle aziende, penso a una in particolare, la NSO Group che è un'azienda privata israeliana che però esporta su licenza di autorizzazione del Ministero della Difesa israeliano, che ha venduto un suo software a molti, molti governi e questo software è, ci dicono, ufficialmente utilizzato per contrasto al terrorismo, però è stato utilizzato per dare la caccia a giornalisti, a dissidenti, per portare in galera delle persone che sono state spiate con quel sistema e quindi sì, ci sono state anche aziende italiane che hanno fornito software di sorveglianza a paesi del Medio Oriente che se ne sono serviti per violare i diritti umani, penso la Siria, penso l'Egitto e quindi è tutto, ripetisco, il tema è quello dei controlli, il problema è che lasciare ai governi l'arbitrio del controllo, di stabilire cosa fare e cosa non fare è pericoloso e quindi controlli, ma soprattutto controlli da parte di organi di monitoraggio indipendente. Certo. È stato con noi in collegamento Scap Audio Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Grazie mille a risentirla. A voi buona giornata. Grazie. Buona giornata. L'Ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Attualità.